Una cartella esattoriale da un milione e mezzo di euro. Che Francesco Totti ha immediatamente pagato. Questa la notizia apparsa su Repubblica questa mattina che riguarda l'ex capitano della Roma. Spot, eventi sportivi e non, presenze in programmi tv e tutto il resto, da quando ha chiuso la carriera è stato ovviamente cercato per la sua immagine. E ha ricevuto altrettanti compensi che, secondo il giornale, non erano stati dichiarati. Un'indagine della Guardia di Finanza e poi del Fisco hanno fatto capire che, probabilmente, si è trattato di un errore del commercialista che non aveva aperto una partita IVA per pagare appunto questa tassa, le altre sono state sempre tutte pagate, e quindi nel momento in cui è arrivato l'accertamento Totti ha subito messo mano al portafoglio. La sua immagine prestata alla tv non era quindi solamente una prestazione occasione, ma una vera e propria attività. Per questo motivo avrebbe dovuto aprire una partita IVA. E a quanto si legge, infine, questo contenzioso potrebbe entrare decisamente nelle questioni economiche legate alla separazione con l'ex moglie Hilary Blasi che si sta discutendo ancora oggi davanti ad un giudice.